e bentornati a tutti voi nuovamente mio caro popolo angolare e non perché come è giusto che sia dopo aver parlato dei dieci aspetti che più mi hanno colpito che più mi hanno entusiasmato durante le 3 2016 credo che sia giusto parlare anche dei dieci che mi hanno fatto sanguinare gli occhi l'anno scorso saltai questi due video per un motivo direi semplice che però in molti fanno fatica a concepire attenzione se non ho niente di particolare da dire in riferimento ad un determinato argomento preferisco non girare un video d'altra parte è pur vero che siamo su una piattaforma in cui se non carichi almeno tre video al giorno automaticamente diventi lo youtuber profumato lo youtuber figlio di puttana ma va bene così ragazzi ormai sono abituato ma non andiamo off topic e partiamo con queste dieci posizioni dieci annunci dieci riflessioni dieci momenti durante le 3 2016 di cui sinceramente avrei potuto tranquillamente fare a meno e siccome stiamo parlando di riflessioni cominciamo a riflettere sulla sigla grazie a tutti grazie a tutti E direi di partire proprio da una riflessione generale, che più generale non si può. Seguo le tre da anni e d'anni e credo che questa sia stata una delle edizioni meno, come dire, ciccione di sempre. In decima posizione metto proprio l'edizione 2016 dell'E3, ricca sì di moltissimi giochi presentati sui palchi dalle varie conferenze, ma di cui la stragrande maggioranza composta da titoli già annunciati, già visti, già stravisti ed alcuni addirittura già masticati tramite demo. Se a ciò aggiungiamo poi i giochi annunciati pochi giorni prima dell'E3, le bombe che ci hanno presentato davvero per la prima volta durante le conferenze sono state proprio pochissime. E questo aspetto, secondo me, se ci mettiamo un secondo dalla parte non di chi videogioca, ma di chi i videogiochi li crea e li deve vendere, è comprensibile. Perché, secondo voi, se doveste pubblicizzare il vostro nuovo gioco, preferireste diffondere le notizie pochi giorni prima dell'E3, quando le news sui giochi sono poche o comunque nella media? Oppure preferireste che il vostro nuovo prodotto venisse trattato, venisse pubblicizzato nella centinaia, nella marea di news provenienti dalle varie conferenze di Los Angeles? Pensateci, stronzi. Ed ecco che quindi spuntano come funghi i rumor e addirittura gli annunci ufficiali poche ore prima dell'inizio dell'E3, facendo perdere quasi dal tutto a noi videogiocatori quel fascino particolare, quella magia tipica che accompagna i giorni di fiera e gli annunci a sorpresa. Dicono che l'E3 sia come il Natale dei videogiocatori, ma in realtà è come se il 22 di dicembre arrivasse Babbo Natale e ti dicesse che il pacchetto, il tuo unico pacchetto sotto l'albero di Natale, non contiene il nuovo Call of Duty, figa ma un paio di guanti. Il mio rapporto con Quantic Dream è di amore e odio, perché a titoli che mi sono rimasti impressi nelle retine come Heavy Rain ovviamente, sono seguiti giochi come Beyond due anime, durante il quale avrei voluto infilarmi stuzzicadenti nei bulbi oculari. Tra l'altro, molto lentamente, per soffrire ancora di più, senza mai dimenticare il compianto Fahrenheit. Interessante sì, ma solo per metà. E avete già capito di quale metà sto parlando. Quando l'anno scorso venne mostrato per la prima volta Detroit Become Human, l'idea su cui il titolo stesso sembrava basarsi mi attirò e non poco, nonostante l'argomento degli androidi che vogliono vivere come umani sia piuttosto diffuso e abusato, oserei dire, specialmente al cinema. Quando però ci è stato ripresentato alle tre di quest'anno, non lo so, ho come avuto l'impressione che si potesse trattare di un titolo non interessante tanto quanto i precedenti giochi di Quantic Dream. Forse a causa proprio del fatto che l'argomento sia ormai trito e ritrito. Certo, avremo come sempre mille scelte morali da compiere e mille svolte diverse nel continuum della trama, ma... Boh, il mio senso di ragno per le cazzate ha cominciato a pizzicare, memore delle grandi aspettative che avevo anche per Beyond Due Anime e rivelatosi poi Beyond Due Palle Giganti. O forse perché dopo le decine di giochi usciti negli ultimi anni basati sulle cosiddette scelte morali, ormai ne ho già pieni coglioni di tutta questa moralità. Faccio a meno di dirvi che spero di sbagliarmi e che questo mio sentore di floppata sia completamente errato, ma l'esperienza ci insegna che con Quantic Dream c'è da aspettarsi di tutto, figa. Come sapete tutti, ormai sono giunto da diversi anni al punto tale da concedermi non più di 1-2 fps in un anno solare. Nella scorsa generazione il successo raggiunto dagli fps competitivi su console mi ha fatto sprofondare in un vortice di putrefazione interiore da cui tuttora riesco difficilmente a risalire. I vari Far Cry, Bioshock, i Fallout sono gli unici giochi che sono riuscito ad affrontare nel corso degli ultimi anni, probabilmente perché non si tratta di fps veri e propri, ma più giochi d'avventura o giochi di ruolo in prima persona. Ogni anno però esce quel titolo che mi fa tornare la voglia di riprendere in mano un'arma e di passare quelle 6-8 ore semplicemente massacrando orde di nemici rincoglioniti. E il titolo del 2016 avrebbe potuto proprio essere Battlefield 1 o Battlefield 1, come cazzo si chiama. E non ho utilizzato il condizionale a caso o popolo che non conosce l'italiano, in quanto, senza troppi giri di parole, non appena ho visto i primi filmati di gameplay di Battlefield, mi sono cascati i coglioni. Perché davo per scontato che un Battlefield ambientato nella Prima Guerra Mondiale non si sarebbe basato sulle dinamiche realistiche appartenenti ad uno scontro armato ad inizio novecento, ma Cristo, nemmeno che il nuovo Battlefield fosse il solito Battlefield con mappe risalenti a quell'epoca, cazzo, guardate, c'è altro da dire? Ed è un po' la critica mossa da tutti i videogiocatori, soprattutto quelli italiani che conoscono un minimo di storia. Perché ambientare un Battlefield nella Prima Guerra Mondiale se poi ci sembra di giocare a Modern Warfare? Ovvio, il gioco è stato sviluppato da americani per americani, e capisco anche che il gioco debba vendere e che una guerra di trincea non fosse la maniera ideale per proporre un FPS adrenalinico. Figa, ma nemmeno una roba del genere, ostia. Battlefield 1, quindi no grazie, ma non solo a causa dei filmati visti alle tre, ma soprattutto grazie alle vostre segnalazioni di queste ultime settimane riguardo la figosità del nuovo Doom, che non ho ancora comprato ma che molto probabilmente diventerà il mio FPS del 2016. Di Watch Dogs 2 ho poco da dire, nel senso che se da una parte mi aspettavo che Ubisoft lo annunciasse per la fine del 2016, dopo avermi rovinato il Natale e non facendomi uscire un altro Assassin's Creed sempre uguale, ammetto che non mi aspettavo che venisse mostrato alcuni giorni prima delle tre. Ed è questo l'esempio più eclatante di ciò che stavo dicendo alla posizione 10, ovvero il distruggermi la magia del primo vero annuncio live, in diretta quindi, dal palco della conferenza in corso. Ma naturalmente non è questo il motivo per cui Watch Dogs 2 è finito in flop 10. Come ricorderete, con tratti da fixer a parte, il primo episodio uscito un paio di anni fa mi piacque molto perché rappresentò esattamente ciò che mi aspettavo dal titolo, o quantomeno dal punto di vista dei contenuti. Ma questo Watch Dogs 2? Boh, mi sembra più veritiera l'etichetta che moltissimi videogiocatori ha più parano al primo episodio, ovvero è il GTA di Ubisoft. Spero che i filmati presentati prima e durante le tre non mostrino il gioco completamente, perché ciò che più mi piacque dal primo Watch Dogs fu proprio il fattore hacking, la facilità con cui il protagonista poteva sbloccare, diciamo, qualsiasi cosa. Ora ciò sembra essere, non dico dimenticato, ma quasi, in favore di un protagonista non più tanto hacker, ma molto più swag, molto più gangster. E infatti, è di colore, i conti tornano. Battute del cazzo a parte, spero vivamente che ciò non sia vero, e che quindi Watch Dogs 2 debba ancora mostrare tutto il proprio comparto hacking che tanto apprezzai nel primo episodio. Nel frattempo però finisce in fiducia in flop 10, soprattutto per come e per quando ci è stato mostrato da Ubisoft. Ubisoft del cazzo. E da proposito di Ubisoft del cazzo, esattamente come nella top 10 ho voluto esordire con la conferenza Sony come indice di come le conferenze andrebbero fatte, in flop 10 ci finisce la conferenza Ubisoft, che non sono considerato la peggiore conferenza di questa edizione delle tre, ma la peggior conferenza Ubisoft degli ultimi anni. E voglio essere chiaro, esattamente come per Sony non sto giudicando i titoli proposti, ma il come siano stati proposti una conferenza troppo lunga, scandita da pochi giochi, video di gameplay interminabili ed interviste inutili tra un gioco e l'altro. Ormai Ubisoft ci ha abituati alla sorpresa finale, alla bomba, e quest'anno è stato il turno di Steep, che a molti ha fatto venire i brividi per la goduria, ad altri cat è scivolato via. Diciamo che forse all'epoca Ubisoft colpì di più il proprio pubblico con una nuova IP come Watch Dogs rispetto ad uno Steep, ma forse ciò è solo una mia impressione sbagliata, che si basa sul fatto che di Steep non me ne frega un cazzo. Potrei banalmente inserire una canzone in sottofondo di Stevie Wonder, ma ormai questo momento della conferenza Ubisoft è già stato ridicolizzato in tutte le salse da chiunque in rete, quindi, nah, non ne vale la pena. La presentazione di Eagle Flight sul palco ha rappresentato per me non solo il momento più basso della conferenza Ubisoft, ma proprio il momento peggiore di tutta l'edizione dell'E3. Lasciando perdere per un attimo il gioco che tolti i tre minuti iniziali di adeguamento e di figosità data dalla visuale a volo d'uccello, no, non è a volo d'uccello, lo so, cazzo, ma vi rendete conto? Guardateli figa! Ragazzi, io ve l'ho già detto, per quanto sia attratto dalla realtà virtuale, non posso non ammetter che provo vergogna per me stesso anche al solo pensiero di essere sul divano e indossare sto cazzo di coso in testa, poi magari passa di lì mia moglie e mi vede e pensa, figa, ma ho proprio sposato un coglione. No, beh, lei non direbbe figa, ma comunque, come darle torto? Cioè, ho ancora un minimo di dignità, ho ancora un minimo di rispetto per la mia persona, e non ha senso mostrarmi il VR facendomelo passare come una periferica che stimola la figosità collettiva, perché, guardate, Cristo, una massa di stronzi sul palcoscenico! Ma non solo per avere in testa un visore, ma perché fanno finta di divertirsi con un gioco che, anche agli occhi di un bambino, anche agli occhi di un videogiocatore alle prime armi, risulta essere un gioco del cazzo. Vi ricordate nel video precedente quando vi chiesi particolare attenzione riguardo quella posizione in cui inserii il passaggio dei giochi su One, anche su PC? Bene, vi chiedo di prestare altrettanta attenzione ora. Esatto, la presentazione, l'annuncio di Scorpio. Per me è stato un flop, ma non per il motivo banale che potreste pensare voi. Già da settimane, settimane, prima delle tre, si parlava di PS4 Neo, ovvero della versione aggiornata della console che abbiamo in casa tutti quanti. Poco prima delle tre, ecco che in rete spuntano i primi rumor su una possibile rivisitazione anche di One, che quindi sarebbe andata a competere con le nuove potenzialità del nuovo modello della console Sony. Benissimo. Personalmente, come alcuni di voi sapranno, non ho mai dato particolare ascolto a questi rumor, non tanto perché non mi interessino, ma perché finché non so qualcosa di certo sull'esistenza stessa del progetto e soprattutto sulle modifiche effettive che il nuovo modello porterà, beh, credo che ci sia ben poco di cui discutere ed inoltre ben poco per cui disperarsi, come in molti già facevano. Ed ecco che Microsoft presenta il Project Scorpio! Che in molti davano per scontato che fosse la versione 2.0 della One, in uscita più o meno contemporanea con PS4 Neo. No ragazzi, Microsoft cos'ha ammesso in maniera più o meno velata? Ok, abbiamo fatto stronzate con One, abbiamo flopato clamorosamente, ora ne facciamo uscire una versione inutile, più sottile, ma noi stiamo già lavorando alla console della generazione successiva. S.R. Gas, Scorpio è la nuova Xbox che stando a ciò che dicono renderà molto più similare la resa visiva tra la versione PC e quella console dello stesso gioco, sempre a sottolineare la loro nuova linea di condotta univoca tra le due piattaforme, a discrezione però del videogiocatore. E come ho già detto nella Top 10, la cosa non può che farmi piacere se ciò servirà a salvare Microsoft nel mercato console. Ma perché quindi mettere questo annuncio in flop 10? Perché casi sono due. O non andava fatto ora, cioè troppo presto rispetto all'effettiva commercializzazione di Scorpio, oppure non andava fatto così, cazzo, avrei preferito che Microsoft tirasse fuori i coglioni e non mi facesse vedere il solito video di facce da culo che mi parlano di numeroni, di teraflop, di megahertz, megahertz, di HD, di 4K, di Pim Pum Pim. No merda, io voglio vedere oggi cosa sarà in grado di fare la nuova console in uscita dopo domani, cosa mi permetterà di fare rispetto a quei due 14 di One EPS 4. Cazzo, questo è marketing aggressivo, questa è una dimostrazione di sapere ancora comunicare con il pubblico. Ma non in questa maniera, non senza idee, non soprattutto senza giochi, solo chiacchiere, solo numeri con cui gli americani idioti si faranno le seghe. Ma noi, videogiocatori cremonesi, no, non ci possiamo accontentare. E a proposito di videogiocatori cremonesi, dalle nostre parti esiste un detto che dice Lemme Sterkal para el Don de Milan, cioè quando viene dato il via ad un progetto di cui non sembra mai giungere la fine. Ed è ciò che credo che sia sto benedetto Mass Effect Andromeda, titolo che sto aspettando ormai da diversi anni, presentato ormai diversi anni fa, ma di cui sostanzialmente non si è ancora visto un cazzo. Strana però questa cosa perché a parte eccezioni, a volte ridicole come un The Last Guardian, nella maggior parte dei casi qual è l'iter di un videogioco? Sì, occorre il penarello. Se un gioco viene presentato alle 3 2016, alle 3 del 2017 assisteremo i primi filmati in game, dopodiché nel 2018 il gioco finirà sugli scaffali, il fatidico Day One, ed alcuni giorni prima del Day One su YouTube arriveranno i primi gameplay fatti per noi. Sia chiaro, non sono uno di quei bimbi che pesta ai piedi perché non esce Mass Effect? Lo voglio ora! Anzi, preferisco aspettare ad avere un prodotto coi controcoglioni piuttosto di merde come l'ultimo Mirror's Edge. Tuttavia, mi fa molto strano che nonostante gli anni passati dal primo annuncio non si sia ancora visto nulla di effettivamente in game. O che stanno creando il gioco del secolo o che nonostante tutto sono ancora in alto mare. Secondo voi? Facciamo un gioco insieme. Cerchiamo di dimenticare per un nanosecondo tutto ciò che Nintendo ci ha comunicato riguardo il proprio intervento all'E3 2016. Quel poco che ci ha comunicato. In sostanza, sapevamo due cose. Che sarebbe stato un evento similare agli altri anni, ovvero non una conferenza sul palco come tutti gli altri, e che sarebbe stato un trihaus incentrato esclusivamente sulla presentazione, sulla trentesima presentazione, se non ricordo male, di Zelda. Finalmente con filmati di gameplay dal vivo. Tutto bello, tutto figo, amici che hanno seguito in diretta tal evento sono rimasti strabiliati di fronte al nuovo Breath of the Wild, ma personalmente ne ho pieni coglioni. Ma non di Zelda, sia chiaro, ma della Nintendo, perché da grandissimo fan nonché cliente sono veramente stanco di vedere la casa che seguo da quando ero bambino che agisce come come se dovessero fare per forza i profumati a tutti i costi. Non fanno eventi ufficiali, ma discutibili direct. Non cagano le terze parti, sembrano addirittura non volersi mettere in competizione con i concorrenti. E se da un lato ciò mi può star bene, perché mi sono masturbato copiosamente per anni con la Nintendo Difference e col sinonimo di Nintendo come innovatrice, è anche vero che però mi chiedo quale possa essere il futuro di questa azienda che in questi giorni è sulla bocca di tutti per un'applicazione per cellulari, ma che tra pochi mesi dovrebbe far uscire la nuova console. E questo periodo dovrebbe essere magico, dovrebbe essere un periodo di hype pazzesco. Ricordate quando venne presentata PS4? Dalle mie parti si direbbe che ce la fecero sgoloseare perché prima la annunciarono ufficialmente, poi ci fecero vedere solo il pad, poi ci dissero le caratteristiche, tutti i step che andrebbero seguiti obbligatoriamente se vuoi creare hype e se vuoi vendere. Stando a Nintendo, NX dovrebbe uscire tra pochi mesi. Siamo alle tre? Cazzo, non la presenti? Non dici nulla? Non incomincia a stuzzicare la voglia dei tuoi clienti? Non incomincia a far smettere la gente di parlare di PS4, Neo, della nuova Xbox e sbraghi i culi con il tuo nuovo hardware? No, tutti zitti. Beccatevi 5 ore di Zelda e non rompete i coglioni. Zelda, che tra l'altro, sempre stando a Nintendo, dovrebbe uscire addirittura dopo NX. Non ci siamo ragazzi, qui lo dico e qui lo nego. Se dopo il Wii U dovessero flopare anche con NX, prepariamoci a giocare a Mario o sul cellulare o sulla play. Ed infine ragazzi, quest'anno in prima posizione nella flop 10 dedicata all'E3 2016 troviamo un momento che ho inserito in classifica per un ragionamento piuttosto personale. Premessa, le mie aspettative sull'E3 2016 non erano enormi, ma quest'anno più degli altri avevo bisogno di seguirlo per un motivo molto privato, molto pratico anche. Mi promisi che la conferenza Sony sarebbe stata per me come una sorta di spartiacque, uno spartiacque tra la scelta sulla conferma o no del pre-order effettuato alcuni mesi prima su Amazon dal PlayStation VR, dal VR, dal visore, ostia. In poche parole speravo che Sony mi mostrasse una discreta quantità di titoli presenti già al day one del visore per potermi quindi convincere ad acquistarlo subito a 400 bombe più altri soldi per eventuali giochi. Figa. Ma perché prenotarlo se non si è sicuri dell'acquisto? Vi chiederete voi giustamente. Beh, innanzitutto perché il VR o fuar o quel che l'è ebbe in modo di provarlo l'anno scorso al Games Week a Milano e il risultato fu più che positivo. Secondariamente perché quando tempo fa Amazon aprì pre-order si scatenò in me quella forza di rompente alla Nutella che chiameremo Hype e lo prenotai. Quindi torniamo alla conferenza Sony. Cosa hanno mostrato? La maschera di Batman, Resident Evil 7 in uscita febbraio, una parte di Final Fantasy 15 di Battlefront dedicate al visore e poco altro. Quindi che senso ha comprarlo al lancio a 400€ quando tutto questo ben di Dio mostrato alle 3 non sarà presente al lancio? Ma aspettate un attimo ma cosa sarà presente al lancio? Mmm 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 OPERO FIGA No grazie Cazzo e quindi vaffanculo al pre-order cioè sinceramente non ho capito molto questa mossa di Sony. Personalmente mi aspettavo una conferenza di gran lunga più incentrata sul VR essendo il loro nuovo hardware di imminente uscita e quindi da spingere al massimo mentre sembra stato boh solamente accennato. Sia chiaro rimango sempre molto affascinato dalla potenzialità di questi visori seppur conosca bene ed abbia visto con i miei occhi i limiti del visore Sony rispetto ai suoi concorrenti e sicuramente lo comprerò più avanti ma al lancio anche no anche perché più passa il tempo più ci avviciniamo all'uscita più non vedo pubblicità di sto bastardo quindi sono convinto che al day one non vedremo file interminabili di persone che si picchieranno per avere il proprio visore a 400 bombe e non vorrei trovarlo il mese dopo a 100 euro in meno con in offerta il bundle con i 4 5 giochi sì del cazzo che si picchieranno bene ragazzi mi rimane solamente un augurio da fare per una buona estate a tutti quanti buone ferie buone vacanze buone ferie a chi deve ancora partire come sottoscritto buon rientro dalle ferie a chi invece c'è già stato noi ci rivediamo più avanti a settembre non lo so non idea ne rimaniamo comunque in contatto su vari social network che come sempre trovate qua in descrizione vabbè sono sempre gli stessi e mi raccomando ricordatevi di una cosa la barba ostia la barba e sicuramente lo comprerò e sicuramente e sicuramente lo comprerò più avanti ma al lancio no grazie grazie pezzo di merda grazie a tutti